ragazzi buongiorno allora oggi è venerdì 12 da notare quanto è carina la mia tazzina ne abbiamo abbiamo tipo tutta una collezione fatta così colorata io l'adoro oggi si parte devo preparare la valigia e la cosa più brutta di quando si prepara una valigia è che quando tu non sai dove devi andare che ci metti dentro sta valigia voi lo sapete io non lo so quindi adesso mi devo ingegnare e seguirò le istruzioni insomma di marco mi devo anche poi fare una doccia devo lavare i miei capelli devo fare un po di cose io so che l'altro giorno ci siamo messi a preparare questo perché lui mi ha detto se tu ti immagini di andare su un'isola deserta ti farà il bagno no sì se pensiamo per assurdo sì allora mi porto mi porto anche il costume ok io sono pronta scendo a fare due commissioni noi siamo in partenza però io non so per dove nemmeno io amore via benvenuta ad atlantide no vabbè ecco perché era tutto male ma posso entrare con le scarpe oh mio dio no ma era bellissimo ma dove l'hai trovato sto posto che bello questa è la camera no sono troppo belli e niente qua possiamo fare il bagno qua è tutto così qua c'è la fauna e qua vi devo troppo far vedere il bagno se riesco spero che si senta qualcosa c'è pure il bagno è bellissimo sapete che io adoro filmare i bagni amore 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.